Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione del Tg10. L'apertura del notiziario oggi è dedicata alla vicenda legata all'installazione di un parco eolico offshore nel Golfo di Gela. I magistrati del Tar Lazio a cui il comitato NOPEOS si è rivolto ha emesso una sospensiva ai lavori al momento, quindi non avranno inizio. Sentiamo. No all'installazione del parco offshore che porterebbe al montaggio di 38 paleoliche a poco più di 2 miglia dalla costa tra Falconara e Manfria. Lo ha deciso con un'ordinanza di sospensione il Tribunale Amministrativo di Roma. Dunque almeno per ora è stata bloccata l'efficacia del via ministeriale rilasciato alla società Mediterranean Wind Offshore a seguito del ricorso presentato dal comitato NOPEOS. Alcuni mesi addietro, chiamati a pronunciarsi nel merito, i giudici del Tar di Palermo avevano dichiarato la loro incompetenza territoriale. Del caso adesso si sono occupati i magistrati del Tar del Lazio. Per ora, come dicevamo, c'è una sospensiva. Poi bisognerà entrare nel dettaglio. La linea adottata dai legali delle associazioni che hanno impugnato il provvedimento è fin troppo chiara. Gli avvocati Chiara Modica Donata, Larose e Giovanni Puntarello hanno focalizzato il ricorso sull'esigenza di tutelare un'area, quella ricompresa nel progetto, già individuata come corridoio fondamentale per la vifauna, che dalle coste africane migra verso l'Europa del nord, senza tralasciare l'importanza archeologica dei fondali dell'area. La zona, infatti, è stata negli ultimi anni oggetto di numerosi rimerimenti archeologici, soprattutto di epoca ellenica. Il bacino d'acqua in questione, infatti, costituisce un vero e proprio giacimento archeologico teatro di due importantissime battaglie navali. I legali della Mediterranean Wind Offshore, davanti ai giudici, hanno fatto sapere che la ditta non avvierà i lavori finché non si sarà conclusa l'udienza di merito ed il Tar non emetterà la sentenza definitiva. Sostanzialmente, l'azienda non vuole investire denaro, con il rischio poi di dover subire, in fase avanzata, lo stop dei lavori deciso dal Tar. Le associazioni, che hanno sempre detto no alla paventata deturpazione del golfo, sono l'Archeoclub d'Italia, Lega Ambiente e Trischerion. Anche Roberto Chiaramonte Bordonaro, proprietario del castello di Falconara, e la società Top Service 2, proprietaria del Falconara Resort, si sono sempre detti contrari all'installazione delle pale eoliche. Ai ricorrenti si sono giunti anche gli attivisti di Italia Nostra. Un giro di raccolta abusiva della plastica che sottrarrebbe alle casse della società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti e al comune di Gela circa 15.000 euro al mese. La denuncia arriva direttamente dai responsabili dell'azienda Campana Tecra, titolare dell'appalto per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti in città. I presunti ladri di spazzatura agirebbero nei giorni fissati per la raccolta della plastica, anticipando l'arrivo degli operai Tecra. Una segnalazione è stata inoltrata ai carabinieri del reparto territoriale. C'è la convinzione che alcuni mezzi girino per la città di notte, raccogliendo la plastica e rivendendola a centri di stoccaggio o aziende del settore. Perché i delinquenti devono essere più furbi delle persone oneste? Perché in un servizio pubblico qualcuno può essere consentito di rubare? Può esserci a Gela l'affare della plastica? Chi vigila sono gli interrogativi che si pone Ignazio Giudice, segretario generale della CGL di Caltanissetta. Il sindacalista plaude ai lavoratori impegnati nella raccolta dei rifiuti che hanno consentito di aprire gli occhi sulla quantità di plastica differenziata rubata. Cambiamo decisamente argomento. Passaggio di consegna al comando della Capitaneria di Porto di Gela questa mattina. Cerimonia a Palazzo Pignatelli. C'eravamo anche noi, vediamo. Cerimonia militare in grande stile alla presenza delle massime autorità del territorio. Questa mattina a Palazzo Pignatelli a Gela per il passaggio di consegne tra il comandante in partenza Emidio Greco della Capitaneria di Porto di Gela e il comandante Pietro Carosia. Gela è una città particolare perché è una città bella. Ci sono interessi che naturalmente fanno parte del polo industriale, ma la cosa più importante secondo me è l'interesse dei cittadini, l'interesse di chi lavora, l'interesse dell'ambiente, ma l'interesse anche delle famiglie che dipendono da Gela. Quello che cercherò di portare avanti, come ha fatto fino adesso il comandante Greco, è qualcosa che si possa sviluppare in positivo per la città, per la cittadinanza e ovviamente anche per un controllo sull'ambiente perché non ci siano più problematiche che si sono presentate in passato. D'altronde noi dobbiamo essere sempre, avere uno sguardo rivolto al futuro, riguardo anche alla cura dell'ambiente, la cura dell'ambiente marino, terrestre, però anche facendo attenzione alle famiglie che dipendono dal lavoro di Gela e del polo industriale di Gela. Era presente alla cerimonia questa mattina a presiedere il contrammiraglio Francesco Carpintieri, direttore marittimo della Sicilia occidentale. Ogni direzione marittima ha le sue peculiarità, è chiaro che nell'ambito della Sicilia occidentale, di cui io sono il direttore marittimo, i porti più importanti sono Palermo, dove c'è un traffico che è vario da croceristico, servizi di linea e anche qualche traffico di container, c'è Trapone che si dedica esclusivamente a servizi di linea e poi ci sono i porti di Mazzara che è pescareccio, Gela che si occupa di traffici, merci vari e servizi di linea e Gela che è collegata esclusivamente al polo petrolchimico. Ognuno è chiaro, c'è una sua peculiarità e nell'ambito di questa peculiarità deve cercare di espletare quelle che sono le nostre attività al servizio della collettività nel migliore dei modi possibili. Gestivo un'officina meccanica di riparazione, veicoli e demolizione in pieno centro urbano a Niscemi senza alcuna autorizzazione, adesso è stato denunciato dalla polizia. Si tratta di un quarantenne del luogo. L'uomo all'interno di alcuni garage aveva aperto un'officina abusiva, aveva adibito le aree esterne a deposito incontrollato di veicoli da rottamare. L'accusa è di deposito incontrollato di rifiuti e gestione abusiva di discarica. Al sedicente titolare dell'attività, inoltre, sono state contestate sanzioni amministrative per violazioni commesse in relazione all'attività di autoriparatore e demolizione abusiva di veicoli. Adesso occupiamoci dell'Agenzia Riscossione Sicilia. Soddisfazione per la positiva conclusione della vicenda è stata manifestata dal Comitato per lo sviluppo dell'area gelese. L'ex Serit rimarrà in città. Sentiamo i nostri microfoni. Filippo Franzone. Da parte del Comitato per lo sviluppo dell'area gelese c'è soddisfazione in merito alla vicenda che riguardava e che riguarda l'ufficio dell'Agenzia Riscossione Sicilia ex Serit. Finalmente arriva una bella notizia. Da Palermo l'Agenzia Gela non chiude e dunque dopo le proteste anche legittime non soltanto da parte vostra ma anche da parte del sindacato e dei cittadini qualcosa di positivo è emerso. Come Comitato avevamo chiesto un rinvio di quello che era la decisione appunto della soppressione dello sportello a Gela e di rinvio si tratta. Non abbiamo risolto totalmente il problema quantomeno c'è un rinvio. Perché abbiamo chiesto un rinvio? Perché in atto c'è la riforma sui liberi consorsi. Gela diventerà capofila di quella parte che è la zona sud della provincia di Catania con 300 mila abitanti. A quel punto Riscossione Sicilia dovrà tenere conto che a Gela non basterà più lo sportello attuale ma che addirittura necessiterà di uno sportello consortile come verranno chiamati probabilmente domani. Quindi Gela dovrà essere addirittura potenziato. Ecco perché abbiamo questo rinvio e ecco perché siamo intanto soddisfatti del fatto che rimanga lo sportello. Ma non basta ovviamente. Dobbiamo fare in fretta con la riforma dei liberi consorsi per far sì che lo sportello di Gela intanto resti definitivamente e che venga anche potenziato. In un periodo di spending review il dato che è emerso in tutta questa vicenda è che c'era da pagare il canone di locazione dell'affitto proprio della sede di Vietamigi. Ma può essere soltanto questo il problema? Credo di no. Credo che il problema sia ben più grande di quello che è stato prospettato del semplice pagamento dell'affitto. Però a tal proposito voglio appunto dire che in Sicilia esistono più di dieci sportelli che sono allocati alcuni addirittura in paesi che hanno 20.000 abitanti, 15.000 abitanti. Quindi c'è ovviamente di fare una ridistribuzione di quelle che sono la pianta degli sportelli in Sicilia ma che ovviamente non possono nemmeno lontanamente pensare che una città di quasi 80.000 abitanti possa fare a meno di uno sportello di riscossione in Sicilia. Questo è impensabile per tutti. Il dato significativo che emerge in tutta questa vicenda è che quando i cittadini, sindacati, politica e in questo caso anche il Comitato per l'area dello sviluppo giolese si mettono assieme di concreto qualcosa alla fine esce fuori. Gela è una grande città e quando le battaglie le conduce unita vince sempre. Sono sempre stati di questo parere. Noi abbiamo aggregato parecchie associazioni attorno al Comitato perché abbiamo sempre pensato che l'unione fa la forza. Siamo contenti appunto che sia la politica che i sindacati che le associazioni abbiano preso parte a questa protesta diciamo così per il mantenimento di riscossione Sicilia qui a Gela. È un ufficio necessario, non possiamo assolutamente farne a meno. Il dirigente dell'Istituto di Istruzione Superiore, Eschilo Giochino Pellitteri, comunica che il 9 settembre prossimo alle 12 nella sede del liceo classico si terrà il sorteggio per l'abbinamento dei gruppi classe alle sezioni delle quarte ginnasiali. Subito dopo si svolgerà il sorteggio analogo per le prime classi del liceo delle scienze umane. Il 12 settembre invece alle 11 e 30 nella sede di via Ettore Romagnoli è previsto il sorteggio per l'assegnazione degli alunni alle prime classi dell'Istituto Commerciale, Turistico e Alberghiero diretto da Grazio di Bartolo. L'inizio delle lezioni è fissato per il 16 settembre. L'esperienza della Summer School con la Fondazione Mattei non si è conclusa nei giorni della partecipazione al corso ma continua. Continua con nuovi progetti anche importanti che presentiamo oggi alla città. Sì, grazie alla Summer School della Fondazione Enrico Mattei, naturalmente organizzata anche grazie ad Enimed, siamo riusciti ad incontrarci. Si è formato così un gruppo molto dinamico che ha deciso di collaborare dopo il corso. Ci siamo continuate ad incontrare per portare avanti delle idee e progetti che sono scaturiti durante questo percorso di Summer School. Quanti sono i componenti del gruppo e che professionalità avete? Siamo circa una quindicina, abbiamo professionalità un po' tutte diverse, variamo dall'architetto all'ingegnere e così via. Ci sono un po' tutte le competenze. L'idea è quella di impiantare a Gela una nuova metodologia di lavoro che è stata promossa da giovani un po' in tutto il mondo. C'è anche un'esperienza a Catania abbastanza vicino a noi. Il co-working ci vuole spiegare gentilmente che cosa è? Allora, noi siamo partiti dalla Summer School e abbiamo cercato di proseguire questo percorso e di cercare di sfruttare le nostre competenze. Siamo giovani professionisti e portarle avanti tramite dei progetti specifici. Abbiamo deciso di creare un luogo di lavoro, di collaborazione che sfruttasse le nostre competenze e quindi di progettare altre iniziative per il territorio. Il minimo comune denominatore delle nostre iniziative è sempre l'innovazione perché abbiamo deciso di cambiare rotta. Infatti anche il nome Ship Lab si rifà al concetto di nave, di navigazione, navigare il futuro. Sarà l'innovazione che sarà la base del nostro lavoro. A breve ci saranno delle novità. È stato anche individuato un luogo dove ciascuno avrà il proprio spazio. Come funziona un co-working? Cioè nel senso avete uno spazio di lavoro che vi consente di portare avanti singolarmente dei progetti ma quando serve invece è anche di promuovere dei lavori insieme? Ognuno avrà una postazione dove potrà lavorare tranquillamente ma l'importante sarà anche collaborare, portare avanti i progetti insieme in cui ogni professionalità venga esaltata. Quindi ogni professionalità fa un suo percorso individuale e poi invece ci sono dei momenti in cui queste professionalità convergono verso progetti unificati? Progetti comuni, esatti. Progetti comuni e innovativi soprattutto. C'è la possibilità per altri giovani di unirsi al gruppo? In futuro non si esclude l'ipotesi, sì. Manca poco all'ottava edizione del Festival del Golfo prevista per domani e domenica prossimi davanti al Sagrato della Chiesa Madre di Gela. Con inizio previsto alle ore 21, l'iniziativa è dell'associazione Si Fa Sol Musica con il patrocino del Comune. Guest star del Festival sarà Alan Sorrenti che salirà sul palco nella serata finale. In occasione della ricorrenza del suo trentennale della sua fondazione, il Corriere di Gela, media partner storico dell'evento assieme al Quotidiano di Gela e Canale 10 e Radio Belle FM metterà a disposizione targhe e trofei. Un premio per la migliore presenza scenica sarà offerto anche da Canale 10 e viva Vox. Le due serate saranno trasmesse in diretta dalla nostra emittente. Oggi conferenza stampa di presentazione dell'evento. C'eravamo anche noi, vediamo. L'orefice è tutto pronto per il Festival del Golfo 6 e 7, un appuntamento che la città aspetta. E allora diamo gli ultimi aggiornamenti. Gli ultimi aggiornamenti sono praticamente che avremo quest'anno un'orchestra molto più ampiata, penso che già lo saprete. C'è una sezione archi con quattro professori di orchestra. Avremo una sezione fiati e avremo tanti ospiti, tra cui Alan Sorrenti che c'è stato gentilmente affetto dal sindaco, avvocato Fasulo e dall'avvocato Ventura come assessore allo sport e sportacolo. Che cosa vi aspettate quest'anno? Sicuramente un altissimo livello anche da parte dei concorrenti che avete già seguito peraltro. Noi abbiamo già seguito i concorrenti, c'è un altissimo livello. A livello artistico abbiamo musicisti di primo ordine. Avremo anche una sezione di giovani cantanti, sono una categoria, piccoli cantanti crescono, che saranno secondo me gli artisti di Gera di domani. Un'altra novità è costituita dai nuovi trofei, nuovi riconoscimenti, assegnati dai media partner. Sì, i media partner assegneranno dei riconoscimenti. Quest'anno avremo oltre al premio della stampa anche un premio radiofonico, che sarà segnato al cantante più gradito dal punto di vista radiofonico, perché avremo una diretta oltre che televisiva anche radiofonica con Radio Bella FM, che è la storica Radio Gera 125. Avremo inoltre il premio assegnato dal nostro media partner Canale 10, personaggio che televisivamente si prestarà più alla presenza scenica e un po' tutto l'apparato radio televisivo. Scenderanno in campo le voci più belle non soltanto di Gela, ma di tutto il comprensore, un appuntamento che ormai la città aspetta. Sì, è un appuntamento ormai che si ripete, la città lo vuole e partecipa sempre di più come quantità. Quindi devo dire che ormai è un appuntamento che non può mancare nella città, anzi via via cresce sempre di più. Quest'anno sappiamo pure che c'è un ospite, che è appunto quello di l'altista Alan Sorrenti, che appunto animerà l'ultima serata e festa del Golfo. è un'edizione, quella dell'ottava, penso che sia anche un momento di crescito rispetto alle altre, appunto perché c'è un ospite appunto nazionale. Però ritengo che ancora questo festival abbia tantissimi margini per poter crescere e farlo diventare anche questo un appuntamento nazionale. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale che apriamo con la nostra consueta rubrica in breve. Continuano gli appuntamenti inseriti nel cartellone dei festeggiamenti della patrona di Gela, Maria Santissima d'Alemanna. Tutti i giorni nella Chiesa del Rosario, alle 6.30, preghiera del Rosario e della Novena della Madonna. Alle 7 la celebrazione eucaristica con omelia e alle 18.30 Santa Messa con gli ammalati e subito dopo la benedizione eucaristica. E' possibile presentare le domande per l'accesso al contributo integrativo canone di locazione previsto dalla legge 431 del 98 articolo 11 per l'anno 2013. Le domande dovranno essere compilate su moduli predisposti dal Comune presentata al protocollo generale dell'ente entro il 3 ottobre 2014. Lo comunica il settore servizi sociali del Comune di Gela. Il modulo di domanda e il bando potranno essere scaricati anche dal sito internet del Comune www.comune.gela.cl.it E' disponibile presso il settore istruzione di Viale Mediterraneo 41, primo piano, il modulo di iscrizione per il servizio di trasporto scolastico riservato agli alunni disabili che frequentano la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il servizio sarà erogato fin dall'inizio dell'anno scolastico 2014-2015. E' prevista per domenica 7 settembre prossimo alle 10 nella chiesetta San Biagio a Gela la presentazione del libro Il riscatto del Mediterraneo, scritto da Gianluca Solera. L'iniziativa è dell'Associazione Il Pungolo in collaborazione con il Comune di Gela. Secondo Memorial Salvatore Guzzardi, derive catamarani, la chiesetta San Biagio a Gela si terrà domenica 7 settembre prossimo nelle acque antistanti il porto rifugio alle 10 e 30. Un'ora prima è previsto lo skipper briefing. Cambiamo ancora argomento, si avvia la conclusione, la diciassettesima edizione della Gorgone d'Oro promossa dalla compagnia teatrale Antidoto di Gela. Appuntamento questa sera a Piazza Roma, sentiamo. Si conclude questa sera la Kermesse teatrale La Gorgone d'Oro. Questa sera c'è un importante evento. La Gorgone d'Oro, se fosse d'Oro non la portassero. Comunque si, finisce la diciassettesima edizione della Gorgone. Diciassettesima? Diciassettesima, si, dedicata a Enzo Paci. Siamo orgogliosi di aver portato e portare avanti questa rassegna teatrale. Verranno le compagnie di fuori a ricevere i premi, poi ci sarà il nostro programma finale. Non lo faccio più, fatto dalla compagnia teatrale l'antidoto e poi passo la parola a Gugliano. Allora, voi siete già anziani, quindi 17 anni, ragazzi, sono veramente tanti. Mi ha colpito molto questa età. E intanto sono contenta perché finalmente abbiamo ricomposto la coppia artistica. Siete insieme stamattina? Che eravamo separati. Eh sì, non vi si vedeva insieme da un po' per motivi di lavoro. Eh vabbè, certo, io lavoro da questa parte. Per motivi di dolce pure, per motivi di dolce. Comunque, sì, stasera chiudiamo la rassegna, come ha detto Emanuele. E alla fine voglio invitare tutta la cittadinanza, tutto il nostro pubblico, ad assistere sia alla premiazione, che verranno premiati tutti gli attori, le compagnie, ma al nostro spettacolo di chiusura, come ha detto Emanuele, non lo faccio più. Ma voglio aggiungere anche un'altra cosa, che la stagione teatrale, il 26-27 novembre, parte al Cineteatro Antidu di Macchitella, con una campagna abbonamenti. Perciò possono benissimo avvicinare direttamente al nostro cinema e abbonarsi alla prossima stagione teatrale. Ricordiamo invece l'appuntamento ancora una volta insieme per stasera. Dove e a che ora? Piazza Roma. 21.30. Non lo faccio più. E non vi scoraggiate, ci sono all'incirca, ci hanno premesso... 1.600. 1.600. 500 ne portiamo e 500 ce la siamo. In bocca al lupo, ragazzi. Crede, crede. C'è l'informazione cinematografica, smetto quando voglio, il film in programmazione alle 21.30 al Cineteatro Antidu di Macchitella a Gela nell'ambito della rassegna Cinema sotto le stelle. Bene, con l'informazione cinematografica è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che notizie e servizi sono disponibili sul nostro sito internet all'indirizzo web www.tg10.it oppure sulla nostra pagina Facebook. Grazie per averci seguito fin qui, arrivederci. Grazie a tutti.